Ciao a tutti raga da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti non mi andava di chiudere la giornata senza una puntata e quindi eccomi qua in realtà oggi gli argomenti sarebbero tantissimi ci sono state tante tante gare la MotoGP innanzitutto dove ha vinto ancora Martin però abbiamo Ducati che occupa come al solito quantomeno le prime due posizioni del podio poi Bagnaia secondo in una condizione forse non troppo favorevole a chi non può più permettersi una caduta cioè quello di gara in condizioni difficili a livello climatico poi abbiamo avuto un Marquez che con la Honda sale di nuovo sul podio e questo podio rende difficile come dire quello che è un addio ormai annunciato anche dalla Ducati stessa perché loro hanno detto Marquez vuole fortemente venire in Ducati poi c'è quel bacetto cioè ci sarebbe da parlare di tantissime cose il Mondiale Rally che ha visto la vittoria di Tanac e solo quarto Rovampera o piuttosto il Mondiale Superbike abbiamo avuto Bautista vincitore eccezionale con un sorpasso che domani vi faccio vedere all'esterno dell'ultima curva una roba impressionante o Nicolò Bulega campione del mondo ragazzi tanta tanta roba però purtroppo io sono tornato poc'anzi guardate i miei occhi mi bruciano da morire perché le ore di sonno sono sempre meno e quindi tutti questi argomenti li trattiamo con calma domani cosa facciamo allora nella puntata di oggi la 699 quindi domani 700 puntate ci salutiamo per darci il bacino della buonanotte assolutamente no parliamo di Leclerc, di Vassar e della Ferrari che forse è un argomento che vi sta a cuore tanto a cuore più di tutto il resto è inutile nasconderlo in questo canale è 99,9% rosso come la cornice straferrarista e quindi quando ci sono come dire esternazioni da parte di qualcuno dei protagonisti della Ferrari come quelle che voi stessi mi avete indicato oggi con questa intervista questa dichiarazione fatta da Leclerc ebbene io non posso esimermi dal commentare tutto quanto perché comunque me lo avete chiesto ma veramente in tanti ma veramente in tanti perché Leclerc ha dato un colpo al cerchio e uno alla botte perché ha detto delle cose molto belle sulla Ferrari che fanno capire che il rapporto è più saldo che mai ha dato una frecciata a Binotto e compagnia e poi però ha messo tutti sull'attenti con una dichiarazione riguardo un suo possibile addio dalla Ferrari dunque vi metto l'immagine di Leclerc e Vasser e vi leggo ciò che di positivo ha detto proprio su Vasser lui ha detto Fred mi conosce da molto tempo sapeva esattamente come aspettarmi cosa aspettarmi quando Fred è arrivato ero cosciente di quanto fosse bravo ogni persona è diversa e con lui c'è sempre stato un legame speciale è bravo a motivarti e a calmarti quando ne hai bisogno inoltre con me è sempre stato molto diretto è esattamente quello di cui ho bisogno una persona che mi rimprovera quando non vado bene e una persona che mi dice che sto andando bene quando vado bene sembra una cosa semplicissima ma quando arrivi in Formula 1 e se è un pilota della Ferrari non ci sono molte persone così oneste ed è difficile trovarle questo ha detto Charles Leclerc poi l'intervista è continuata onestamente non so dirvi neanche a chi l'ha rilasciata però The Race mi pare credo e non ne sono sicuro però comunque è andata avanti su altri aspetti meno importanti questo quanto di positivo detto poi invece su un eventuale addio alla Ferrari lui ha detto una cosa importante che ci fa capire come anche nel caso in cui il contratto che ha firmato sia per molti e molti anni comunque l'abbiamo visto un contratto in Formula 1 è pieno di clausole e quindi una di sicuro a favore del pilota è quella che se la Ferrari non ha un certo grado di competitività e quindi non rientra in un tot di posizione nel mondiale costruttorio non gli permette di arrivare a un tot numero di punti in quello piloti questo viene scritto nei contratti di tutti i piloti con tutti i team ma anche viceversa perché anche il team si va a mettere al riparo da eventuali performance negative da parte del pilota ebbene lui ha detto il giorno in cui in parole povere non crederò nel progetto più nel progetto allora andrò via quello sarà il momento di lasciare la Ferrari tradotto in soldoni cosa significa significa che se il prossimo progetto non per forza deve essere inteso il 2024 perché il prossimo indirizzo tecnico ecco è meglio definirlo così che la Ferrari prenderà quindi se l'anno prossimo vedremo una Ferrari totalmente stravolta e già competitiva sarà quello giusto io resto così ha detto altrimenti se non credo più nel progetto facciamo un esempio un indirizzo tecnico come quello della sf23 allora vuol dire che sarà arrivato il momento di cambiare aria questo ha detto Leclerc e questo vi riporto e anche se ci dovesse essere un contratto di più e più anni quindi se Ferrari dovesse sfornare un trattore come quello di quest'anno il pilota per contratto può svincolarsi questo è ciò che ha lasciato intendere lui da queste sue dichiarazioni che secondo me sono abbastanza forti però ci fanno capire come in questo momento ci sia un forte legame con la dirigenza incluso soprattutto il team principal che a mio avviso voi magari direte no ma secondo me lo sta mettendo un po' al centro del progetto ed è quello che ha bisogno un costruttore per arrivare al top quando è tanto indietro lo hanno fatto tutti lo fanno tutti poi magari quando sei lì che domini con due vetture allora puoi regalare spettacolo con entrambi i piloti quasi tutti questo lo fanno e quindi Mercedes ad esempio l'ha fatto tantissimo quando c'erano e Milton e Rosberg a parte il primo anno dove sono successe delle cose all'interno del team che a un certo punto hanno rotto gli equilibri vi faccio un esempio su tutti ma secondo voi quel dritto di Rosberg a Monza era un dritto reale cioè era un qualcosa di scandaloso ragazzi cioè lui ha detto sono arrivato lungo e quindi Hamilton mi ha passato da quel momento in poi Hamilton si involò verso il suo mondiale primo mondiale in Mercedes però sino ad allora Rosberg mi ha tenuto bene botta e quindi niente questo è quello che ha detto Leclerc mi avete chiesto di commentarlo lo faccio più che volentieri secondo me da questa intervista salta fuori un qualcosa di positivo per quale motivo semplice perché alla fine dei conti lui comunque ha ribadito che crede in Masser e quindi ha detto che il legame in questo momento è molto forte ovvio dopo aver vinto nel 2019 aver subito delle batoste nel 2020 e nel 2021 dopo aver rivinto con un certo slancio verso il mondiale nel 2022 e poi aver visto delle robe assurde da parte dell'allora Team Principal blocchi lo sviluppo non punti nettamente sul pilota che è in testa facendo vincere l'altro a Silverstone ebbene ragazzi e quindi seconda batosta una terza sono sicuro che non la reggerebbe su questo non ci sono dubbi per tutto il resto delle news che ci sono da riportare dal mondo o meglio di riportarle le abbiamo riportate di analizzarle lo faremo per benino domani c'è quel sorpasso all'esterno di Bautista ragazzi che va rivisto fotogramma per fotogramma e poi c'è questa situazione di mercato di Marquez che mi fa un po' sorridere perché secondo me alla fine dei conti le cose sono abbastanza chiare anche se ripeto sono arrivati due podi in condizioni molto particolari per carità che rendono un po' più difficile un addio da una lunga storia d'amore costellata di successi infine volevo ringraziare e fare i complimenti a tutti i miei piloti che oggi ragazzi c'erano 25 in pista sono tanti hanno fatto un lavoro eccezionale ieri la premiazione oggi già subito al lavoro senza aspettare neanche un secondo e devo dire che hanno lavorato veramente veramente bene non riesco a fare il nome di nessuno perché tutti meritano tanto rispetto per la passione e per l'impegno che oggi ci hanno messo e poi hanno fatto un bel po' di chilometri sono abbastanza soddisfatto di questo cosa aggiungere ragazzi ci vediamo domani spero con due puntate come al solito anche perché in questo momento canna al fuoco ce n'è mi avete fatto una domanda tecnica sui convogliatori di flusso che si sviluppano davanti al fondo no quindi sotto il pilota una domanda molto interessante e mi fa piacere rispondere domani risponderemo per benino anche a questa adesso invece me ne vado a nanna perché credetemi sono cotto e stracotto macinato bene spero che questo commento di queste parole di Leclerc vi siano piaciute il video in generale vi sia piaciuto se è così lasciate un like un commento condividete il video sui vostri social iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto mannaggia a voi e nulla dai ci vediamo domani io veramente la giornata la chiudo qui ciao ciao